Siamo 11 squadre, 5 di A2 e 6 di B e si è organizzato questo specie di campionato provinciale per riportare la pallanuoto in estate, possibilmente anche di sera e molto probabilmente faremo anche tanti gruppi di partite in mare, come era una volta, come era la tradizione perché vogliamo che i turisti che vengono in Liguria possano ancora una volta rivedere la pallanuoto che tanto aveva attirato e tanto aveva divertito tutti i turisti che venivano. Il fatto di giocare infrasettimanale è stata proprio l'idea vincente di questo torneo, siccome nel campionato ormai il pubblico se ne vede poco perché si gioca di sabato alle 5 e mezzo ed estate alle 5 e mezzo le persone normali quando fa estate sono alla spiaggia e non si muovono, con questo torneo hanno la possibilità di vedere le loro squadre e altre squadre alla sera dopo che uno è stato alla spiaggia che si è divertito di sedersi in una piscina, sedersi su un molo e vedere della pallanuoto, questa è stata secondo me un'idea molto molto vincente.